Cari con cittadini, buongiorno e buon venerdì. Siamo in quest'oasi straordinaria che è la Volpe sotto i Gelsi, un'area, uno spazio delle strutture di proprietà comunale dedicate all'agricoltura sociale, all'inclusione delle persone con disabilità, con difficoltà, i soggetti fragili e anche i centri estivi per i nostri bambini. Un'area bellissima all'interno della zona industriale, quindi una vera e propria oasi di bellezza con strutture storiche, con straordinari Gelsi e con tante persone straordinarie, soprattutto legate al mondo della cooperazione, della cooperazione sociale rappresentate dalla cooperativa Il Piccolo Principe che da tanti anni porta avanti queste bellissime attività che ci rendono tutti orgogliosi. Proprio in relazione a questo sentimento di orgoglio investiremo 166 mila euro in questa area per infrastrutturare meglio anche questa zona verde con panchine, con strutture per la socialità e con la pavimentazione che supererà certe barriere architettoniche, quindi permetterà alle persone con disabilità e con difficoltà di deambulazione di muoversi meglio, strutture per la Gris Summer, come dicevamo, per i centri estivi, innovazione tecnologica con la video sorveglianza e tanti altri piccoli accorgimenti e migliorie che permetteranno a quest'area di essere ancora più bella e ancora più accogliente, non solo per le persone che la frequentano quotidianamente ma anche per tutti voi. Vi invito veramente a venire qua in via Copece, proprio alla fine della via dei comunali, girando a destra poi prima del sottopassaggio e visitate questa splendida oasi che è un orgoglio, è un po' fiore all'occhiello delle tante attività sanvitesi nel nostro territorio. Quindi procederemo proprio nelle prossime settimane per il cantiere che metterà in esecuzione i progetti presentati, finanziati dal PSR, che è un fondo proprio di valorizzazione del patrimonio rurale e dell'agricoltura sociale, contiamo che entro la fine dell'estate i lavori possono essere inaugurati e quindi quest'osi sarà resa ancora più bella e ancora più funzionale. Ieri il Consiglio Comunale ha adottato la variante 79 con 15 voti favorevoli, 8 astenuti e un contrario. A seguito di mesi di lavoro iniziati a novembre nella Commissione Consigliare, nei confronti anche con i diversi consiglieri ma anche altri soggetti che hanno presentato delle osservazioni al testo della variante. Naturalmente c'è stata massima apertura da parte dell'esecutivo, da parte degli uffici, per riuscire a cogliere gli spunti e migliorare sempre di più un testo, quello della variante 79, che ha un obiettivo cardine dell'iniziativa di carattere urbanistico, della riforma di carattere urbanistico, che è aumentare la vivibilità del nostro territorio, soprattutto in relazione a una crescita che attendiamo nei prossimi anni legata a un'attrattività che conosciamo, che vediamo anche dei dati di nuovi residenti, ma soprattutto agli effetti di carattere demografico legati alla realizzazione del carcere. Riteniamo che alcune zone, in particolare le zone B2 non centrali, quelle zone che sono residenziali e quindi che con difficoltà possono accogliere strutture condominiali molto grandi, che non hanno zone verdi, che non possono disporre di spazi per il traffico di relazione, quindi prive di parcheggi, con strade non particolarmente adatte ai parcheggi e a un certo tipo di viabilità, crediamo, siamo convinti che proprio in relazione all'attuale piano regolatore e a tutti i bonus di ristrutturazione che aumentano poi la volumetria, attualmente si possono realizzare grandi condomini, arrivare fino a quattro piani, appunto in zone non adatte come le zone B2, che sono zone destinate a case unifamiliari o comunque piccoli condomini o villette, zone residenziali per definizione, quindi riteniamo molto importante questa variante perché dice basta, dice stop, ha una cementificazione inadeguata e incoerente rispetto a questo tipo di aree e va nella direzione di appunto migliorare la vivibilità ma soprattutto di regolare la crescita a San Vito. Siamo molto contenti che San Vito possa crescere, noi contiamo che possa crescere nei prossimi anni in termini residenti perché più residenti ci sono, vuol dire anche più ricchezza per il territorio e crescita ovviamente sotto tanti punti di vista, economico, sociale, culturale e quant'altro, ma la crescita deve essere governata, deve essere governata dall'amministrazione comunale che pianifica lo sviluppo, perché altrimenti si rischia di vedere una speculazione edilizia incontrollata e un peggioramento della qualità della vita, un depauperamento del paesaggio, un imbruttimento vero e proprio del paesaggio e quindi con tutta una serie di ricadute negative che noi vogliamo ovviamente evitare. Abbiamo ricevuto diversi suggerimenti, anche critiche magari di carattere costruttivo, comunque stimoli al miglioramento, partiranno i 30 giorni per la presentazione delle osservazioni e poi il testo con le osservazioni che valuteremo insieme agli uffici, quali potranno essere accolte e quali no, naturalmente c'è la massima apertura, ma fermo restando gli obiettivi della variante che per noi devono essere ovviamente perseguiti, il testo approverà con le eventuali integrazioni, sempre in consiglio comunale, per la definitiva approvazione. Quindi siamo particolarmente soddisfatti di questo lavoro, soprattutto di grande apertura, di grande ascolto con le forze politiche, i commissari e altri soggetti che hanno inteso intervenire e naturalmente avviare un percorso per arricchire il più possibile una variante che ha sicuramente un impatto molto importante per il nostro territorio in vista poi della realizzazione del nuovo piano regolatore prevista per il 2026 e quindi siamo in una fase in questo momento di ripianificazione veramente importante per costruire la San Vito del domani, una San Vito che vuole crescere da una parte e consolidare un ruolo di riferimento soprattutto per la completezza dei servizi pubblici e privati, ma allo stesso tempo mantenere la qualità della vita, la vivibilità e la dimensione che caratterizza San Vito, quella che è a misura d'uomo, quella dimensione di una città che allo stesso tempo è un paese ed è comunità. Eventi del fine settimana. Oggi alle 17 al complesso dei battuti ci sarà la presentazione del libro Aspetto che cada un uccello di Marco Tracanelli. Alle ore 18 si aprirà l'evento Tempo al Tempo, siamo anche per questo molto contenti proprio perché si apre una nuova rassegna, nuovo evento a San Vito per sostenere sempre di più la vitalità del nostro paese e della nostra città e naturalmente partiremo con i Track Food, Tempo di Track Food, all'apertura alle ore 18 in Piazza del Popolo. E alle ore 18 sempre DNA End, tra scienza e coscienza moderna, inaugurazione di una mostra all'essicattoio Bozzoli, mentre alle ore 21 sempre di oggi San Vito, Cal Music, omaggio a Mina con Tinkara Kovac. Al Teatro Rigoni, ingresso 12 euro, prenotazione consigliata alla mail prenotazione.onde.gmail.com Domani continua la programmazione di Tempo al Tempo, probabilmente la giornata più importante, più piena e più carica di eventi, alle 9.30 ci sarà l'inaugurazione della manifestazione del Vintage Advantage al complesso dei battuti, mentre alle 10.30 la verticale di Meringa d'Asina, degustazione all'osteria dei battuti. Alle 11.00 si apriranno i Track Food in Piazza del Popolo, alle 11.30 la verticale di Pino Bianco dell'azienda Pascolo di Dolegna del Coglio, una degustazione in sala consigliare nel palazzo municipale per informazioni e prenotazioni, e affrettatevi perché i posti si stanno esaurendo, thewinogramchioccialgmail.com mentre alle ore 17.00, sempre al palazzo Rota, in sala consigliare, la verticale di Friulano dell'azienda Stroppolattini di Cividale del Friulo, una degustazione, una verticale, e l'info sempre thewinogramchioccialagmail.com dopo inseriremo nel video, a seguito del video, anche l'indirizzo, così potete appuntarvelo correttamente proprio per prenotare il vostro posto. La verticale è un'esperienza bellissima che sta proprio nell'asse del tempo e può far apprezzare a tutti noi l'evoluzione di un prodotto che può essere gastronomico o legato al vino, un prodotto vitivinicolo, nella sua evoluzione nell'asse del tempo, quindi nel suo invecchiamento, nella modifica e nella valorizzazione delle qualità che proprio il tempo attribuisce, il tempo permette ai prodotti proprio di modificarsi e cambiare il loro gusto e naturalmente la loro qualità. Sempre alle 17.30 all'Osteria dei Battuti, verticale di formaggio affinati in grotta dell'azienda Landris di Anup Canuti, alle 17.30 all'Osteria dei Battuti, per info e prenotazioni 349-643-5233. Alle ore 18 al Teatro Rigoni, Cogli l'attimo, nel flusso del tempo poetico, con Marco Marangoni, Giovanni Fierro, Giacomo Witt e la partecipazione di Hans Kitzmuller. Alle ore 21, Tieni il Tempo, musica di tutti i tempi, col DJ set, alle ore 21 in Corte del Castello. Sempre alla 21 all'Arci Club, Freestyle Battle, ingresso al pubblico con Tessarci, contributo di 10 euro. Oltre alla Battle di Freestyle, si esibiranno live Ennochilla, Navicella, Venigos, Outsnob, Night Darko e Drame. Domenica 14 aprile, anche questa giornata ricca di eventi di tempo al tempo, alle ore 10 all'Ex Cinema Italia, l'alfabeto dei giochi popolari, presentazione del libro di Diego Lavaroni, con l'importante contributo di Paolo Munini, archivio italiano Giochi di Udine. All'ora 10.30 riprendono le verticali, le degustazioni verticale dei prosciutti, il Molinaro e la loro triologia. All'ora 10.30 all'Osteria dei Battuti. Sempre per informazioni e pronotazioni, appuntatevi anche questo riferimento, riferimento 349-643-5233. All'ora 11.00 riaprono i track food in piazza. All'ora 11.00 sempre il tempo cura o si cura. Un incontro al Teatro Arrigoni con Giorgio Simon, Cesare Bottos, Michele Serafidi, Flavio Massarutto e Giovanni Rizzoni. All'ora 15.00 il Laboratorio di Costruzione di Giochi in Legno presso l'Ex Cinema Italia, alle ore 15.00 a cura di Picciozz e alle ore 17.00 Black Ball Boogie. Ehi, dove vai? In concerto, in Piazza del Popolo. Un ingresso ovviamente libero. Per quanto riguarda invece le mostre di questo fine settimana, DNA End, tra scienza e coscienza moderne, Sicatoio Bozzoli, lunedì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00, dalle 15.00 alle 19.00, sabato e domenica dalle 9.00 alle 19.00. Visite guidate per il pubblico su prenotazione, da lunedì a venerdì alle ore 17.00, sabato e domenica ore 11.00 e ore 16.00. Mentre in Chiesa San Lorenzo, per avvivare la memoria di tanti rari pellegrini ingegni, inaugurata la settimana scorsa, una mostra di Severino e Deni da Nelon, alla Chiesa di San Lorenzo, aperta sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30, alle 15.30 alle 19.00, quindi avete tantissimi motivi per rimanere a San Vito, ovviamente i sanvitesi e tanti motivi per chi non è di San Vito di venire a visitare la nostra bellissima cittadina con tutte queste iniziative, in particolare di carattere enogastronomio, ma anche musicale e culturale e quindi poi poter godere di tutte le offerte che San Vito vi può regalare. Grazie e buon fine settimana a tutti.